Bene ragazzi, io sono Andrew Arcidiacono e oggi vi mostrerò Gamia Style in italiano. Oppa Gamia Style! Gamia Style! Una ragazza che è calorosa e umana durante i giorni, una ragazza che sa come godersi la libertà di una tazza di caffè, una ragazza sorprendente. Io sono un ragazzo, un ragazzo che è caloroso come te durante il giorno, ancora prima che si raffredde il caffè. Un ragazzo in cui il cuore scoppia proprio quel tipo di ragazzo. Bellissima, amabile, si tu ehi, si proprio tu. Bellissima, amabile, si tu ehi, si proprio tu ehi, adesso andiamo avanti fino alla fine. Oppa Gamia Style! Oppa Gamia Style! Oppa Gamia Style! Sexy lady Una ragazza che sembra tranquilla Ma ci va giù Pesante quando gioca Una ragazza che si copre ma è più sexy di una ragazza E scopre tutto Una ragazza sensazionale come quella Io sono un ragazzo Un ragazzo che è sempre calmo ma Che ci va Completamente pazzo Quando arriva il momento giusto Un ragazzo che è i pulsanti Piuttosto che i muscoli Quel tipo di ragazzo Amabile Bellissima Sì tu Sì proprio tu Amabile Bellissima Sì tu Sì proprio tu Adesso andiamo avanti Fino alla fine Fino alla fine Oppa Gammia style Gammia style Wup 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 Più in alto dell'uomo che corre c'è l'uomo che vola, sono un uomo che sa una cosa o due cose. Più in alto dell'uomo che corre c'è l'uomo che vola, sono un uomo che sa una cosa o due cose. Oppa, gammia stai. Sexy lady, oh, 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 bag gammia stai. Oh, bag gammia stai.